In Italia, in Lombardia, in provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia, la prima OTI presenta il percorso dei Santi. Dove siamo? Siamo in viadosso Pagano. Cosa ci vuoi presentare? La vegetazione. Ci sono erbacce, arbusti e adole. Passaggio, si chiama Gelso, si chiama Adosso perché avevano messo i morti. Dopo la battaglia di due metri gli avevano messo una butta. Battaglia di corte. E perché si chiama Pagano? Perché c'erano i pagani. E dove una cappella, nascosta tra... Siamo alla Cascina Valovera, dove vengono allevati i tori, poi vengono coltivati grano turbo e fieno. Siamo alla chiesa di San Rocco, che è posta sulla strada per andare al Parco del Serio, dove nel 1600 portavano i cadaveri morti per la peste. Noci, Mallo, questa è la Rupa e qui dentro abbiamo il... Cibo. Questo cibo si chiama Gheriglio. Quanto bagliamo, ragazzi? Calcolate che le piccole mucche, come si chiama? Pensiamo a 1.400 euro. 30-40 euro. Prima qua c'era il Serio, perché qua vicino era alto. Tutte le fontane si bagnavano i piedi. Sì, sì. Il Serio, una decina di anni fa, per concentrare quale piante nascono lungo il fiume Serio, la Seriapia montò, direi che sono solo una cinquantina di chilometri. Sono stati messi naturalmente in modo artificiale. Sono stati piantati una decina, 12 anni fa, proprio per vedere la diversità di questi alberi. Abbiamo fatto un giro molto culturale, di circa 14 chilometri. Ci siamo divertiti molto ed è stato molto interessante. Grazie a tutti.